Grazie per l'invito, per me è un onore. Qualcuno mi ha preparato un discorso da fare, ma non lo leggo e parlo col cuore. L'amicizia fra Italia e Israele è un dono e il popolo ebraico e Gerusalemme sono un tutt'uno. E quindi trasferire la capitale da Tel Aviv a Gerusalemme sarà un impegno morale, civile, religioso e politico. Sono contento dell'applauso in questa sala perché avrò qualche critica fuori. Perché la nuova vigliacca, forma di antisemitismo degli anni 2000 che entra anche nelle istituzioni, non è più solo l'odio contro gli ebrei, ma è l'odio contro Israele. Che per me è la stessa cosa. E non parlo solo degli estremismi, di destra, di sinistra, religiosi, islamisti. Parlo anche di alcune delle più importanti istituzioni che passano il loro tempo a condannare Israele, chiudendo gli occhi sulle violazioni dei diritti umani che dall'Iran alla Cina sono ben più gravi e pesanti. Io ero parlamentare europeo quando l'Europa ha negato se stessa e negato le sue radici giudaico-cristiane facendo un errore incredibile. Ero in piazza, al ghetto, con tanti amici, a maggio, quando Israele aggredita da 4.500 missili, secondo qualcuno, non aveva il diritto di difendersi. Ho chiesto al Presidente Draghi di boicottare la conferenza di Durban, che è un'occasione formale di rinnovare il moderno antisemitismo sotto forma di odio contro Israele. E ogni volta che sono stato a Gerusalemme ho respirato integrazione, tolleranza, curiosità, apertura e modernità. Quindi chiudo da cristiano, da cattolico, augurando ogni bene a quella che è una capitale per tutte le fedi religiose, dove è nato tanto, se non tutto, e a cui noi dobbiamo eterna riconoscenza. In questi mesi di covid, di paura, di ritorno al passato, di preoccupazione per la sicurezza e per il lavoro, avere un esempio di democrazia come quello di Israele è assolutamente qualcosa di prezioso da difendere. Il mio impegno, e chiudo ringraziandovi per questa occasione, è che il Mediterraneo torni a essere un mare di pace, di cultura e di commercio, e non un luogo di sofferenza. E conto, se Dio vorrà, di tornare a Gerusalemme, avendo l'onore di tornare nella capitale dello Stato di Israele. Grazie